Nove vittime accertate e la pioggia che non dà tregua, l'Emilia Romagna in ginocchio per l'ondata di maltempo che ha colpito la Regione, a scavare nel fango anche gli uomini della diciannovesima delegazione lariana del soccorso alpino, tra i primi ad arrivare nelle zone alluvionate il capo delegazione Marco Anemoli. Con lui fin da subito due squadre territoriali, otto tecnici di soccorso, di cui cinque lecchesi, a cui si sono giunte nelle ultime ore squadre specializzate nel soccorso in forra, con un medico, e altre tre attivate per l'aggravarsi dell'emergenza. Le zone di montagna maggiormente interessate sono quelle del Faentino, del Forlivese e del Cesanate. Pioggia continua e smuttamenti rendono la situazione drammatica, le strade interrotte per Colli e Frane impediscono anche il passaggio dei mezzi di soccorso. I tecnici del soccorso in forra hanno evacuato numerose persone in difficoltà. Anemoli, con i suoi uomini, si trova nella zona di Ravenna, dove questa notte gli abitanti della frazione di Villanova sono stati costretti a salire sui tetti per gli allagamenti provocati dalla rottura del lamone tra Reda e Fossolo. A preoccupare anche il cedimento di un ponte nei pressi di una diga, ci ha spiegato mercoledì sera Anemoli, con cui è stato impossibile ristabilire poi un contatto. Problemi di connessione ed elettricità a singhiozzo, persino le comunicazioni sono difficili. E proprio da Lecco è partito un vigile del fuoco di supporto al modulo UCL specializzato nella gestione dei collegamenti. 30 volontari della protezione civile provinciale sono invece in preallerta per raggiungere le zone dell'alluvione, mentre il meteo annuncia ancora pioggia.